Sarebbe stato evitato all'ultimo momento l'arrivo di un'altra nave di migranti nel porto di Salerno nel giorno di ferragosto. Nuovo sbarco quindi nonostante il lungo ponte del 15 agosto. Stavolta però anche in considerazione degli arrivi già avuti sinora e forza del previsto attracco per domenica di tre navi da crociera, contemporaneamente la Marina ha evitato Salerno facendo sbarcare i migranti per la prima volta in assoluto a Napoli. Per il comandante della capitale di porto di Salerno Trogu però problemi non ce ne sarebbero stati. Sicuramente problemi li crea nella misura in cui il porto deve essere attrezzato per questo tipo di accoglienza. Quindi non è che la coincidenza con le crociere o meno, perché nel momento in cui arriva una nave di questo tipo magari non ci sarà la coincidenza con la crociera ma ci sarà la coincidenza con la porta contenitori. Quindi le attività imprenditoriali di un porto vengono comunque coinvolte. Io non parlerei di dirottamento. Io credo che a livello centrale si sia deciso che magari avendo Salerno già avuto tre navi, di cui l'ultima la settimana scorsa magari era il caso di spalmare questo tipo di esigenza anche sugli altri porti campani. Poi chiaramente sono decisioni che vengono presi a livello centrale e che noi rispettiamo e aspettiamo. Nel senso che quando sarà il nostro turno, quando con il preavviso che ci hanno sempre dato, organizzeremo nel migliore dei modi l'accoglienza. In ogni caso Trogu ha salutato con soddisfazione il coinvolgimento anche di Napoli per evitare un affollamento soltanto del porto salernitano. Domenica comunque, dalle prime luci dell'alba, tre le navi da crociera che attraccheranno al porto salernitano. Nessun problema aggiuntivo, secondo Trogu. Domenica avremo tre navi da crociera contemporaneamente, quindi sbarcheremo praticamente 5.000 turisti. Siamo contenti, spero che la città si risponda al meglio a questo flusso turistico. Noi saremo impegnati anche nelle aree portuali con i nostri uomini per poter far sì che questi turisti abbiano l'accoglienza migliore anche sotto il profilo della discesa dalla nave. Chiaramente aspettiamo sempre il polo crocieristico qui al Molo Manfredi. In questo momento siamo costretti a posizionare le navi nell'area commerciale però cercheremo di contemperare tutte le esigenze con i minori disagi possibili. Le navi contemporanee creano problemi supplementari, ovviamente, facilmente gestibili. Ma se si gira e si affaccia alla finestra in questo momento ci sono tre navi commerciali contemporanee. Noi le navi contemporanee è il nostro pane quotidiano, non ci preoccupa assolutamente. Questo è un porto, c'è più posti dormeggio. Sono 5.000 persone però? Beh, fare defluire 5.000 persone non è semplice, però il porto è attrezzato anche sotto il profilo della viabilità e non credo che avremo problemi.